Musica Bando del 118, la denuncia della cooperativa Asgesta, aumentano i fondi per le associazioni che ne utilizzano una minima parte, noi cooperative escluse dal bando. Ospedale di Polla, mancano i medici a rischio di chiusura al reparto di neurologia, la denuncia del dottor Greco. Rocca d'Aspide, tentano la truffa della post-pay ai danni di una ricevitoria, fermati. Sanza, incendio in un'abitazione nel centro storico, nessun ferito ma danni gravi alla casa. Padula, domani alla farmacia Liegro, giornata di prevenzione del melanoma. Buonasera, bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo del bando 118 che interessa anche il Vallo di Diano, infatti continua ad essere oggetto di dibattiti e polemiche. Anche la cooperativa sociale Asgest, che opera nel Vallo di Diano, si scaglia contro il bando. dal gruppo arriva in particolare la denuncia sui fondi messi a disposizione dall'ASL alle sole associazioni di volontariato uniche a poter partecipare per l'effettuazione del servizio, aumentando il budget mensile. Gravissima la denuncia degli operatori della cooperativa, ipotizzando che le associazioni di volontariato, prevalentemente operanti senza scopo di lucro, in realtà avrebbero offerto solo un servizio di facciata invitano gli organi competenti ad effettuare controlli sulle rendicontazioni. Vediamo. La nostra è una cooperativa che si occupa della gestione degli infermieri e degli autisti soccorritori e a cuore quella che è la formazione di questi operatori e li utilizza all'interno del servizio del 118 in subappalto delle associazioni di volontariato. Quello che tengo a spiegare è che l'ASL, una cosa che non tutti sanno, affida il servizio 118 alle associazioni di volontariato. Queste si occupano di mettere l'ambulanza e il personale che dovrebbe lavorare sopra, l'esclusione dei medici e quindi noi ci occupiamo della gestione di questo personale. Le associazioni di volontariato che si occupano della gestione di queste postazioni ricevono un introito da parte dell'ASL per poterle gestire e sino a qualche tempo fa questo introito veniva speso per dare una certa cifra ai lavoratori. Questo introito è stato aumentato, raddoppiato e adesso verrà con il nuovo bando addirittura triplicato, ma la paga dei lavoratori è rimasta quasi la stessa oppure aumentata in minima parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che le associazioni di questa somma di denaro ne spendono soltanto una minima parte per la reale gestione del servizio. La nostra cooperativa utilizza quelli che sono dei lavoratori autonomi, che quindi sono dei professionisti che sono completamente dedicati all'emergenza. Noi non riteniamo possibile che un servizio importante e fondamentale come quello del 118, che è un servizio di emergenza del territorio ed è quello più tangibile da parte della popolazione ed è quello di primo intervento su qualunque tipo di problematica, possa essere gestito da dei volontari. Sul 118 ci dovrebbero essere delle persone qualificate, retribuite come da contratto collettivo nazionale e non magari come avviene nella maggior parte delle postazioni, tra le quali Sala Consilina, Saprica, Saletto Spartano e tutte queste altre postazioni che non sono gestite dalla nostra cooperativa, i turni del 118 vengono coperti da personale strutturato, ossia dipendenti ospedalieri che in barba a tutte quelle che sono le leggi sul lavoro finiscono di lavorare. In ospedale vanno a coprire i turni sul 118, non rispettando turni di riposo e arrecando un doppio danno all'azienda perché favoriscono soltanto le associazioni di volontariato che a questo punto diventano delle vere e proprie associazioni a scopo di lucro e in più non possono fornire un'assistenza adeguata come quella di dei professionisti formati e dedicati soltanto all'emergenza. Il nuovo bando è escluso completamente le cooperative, quindi noi siamo fuori dal nuovo bando e continua ad andare a favore delle associazioni di volontariato e al lavoro volontario. Per quanto riguarda invece la gestione economica delle cooperative e delle associazioni di volontariato, che differenza c'è? La cooperativa a differenza delle associazioni di volontariato e parlo nel caso della nostra cooperativa, pagano regolarmente i propri operatori sotto forma di lavoro autonomo per il momento. Le associazioni di volontariato invece optano per altri tipi di pagamenti che sono sotto forma di rimborso spese perché se il 118 è gestito da un volontario, il volontario ovviamente non può essere retribuito, altrimenti cade quello che è lo scopo del volontariato e quindi vengono retribuiti al rimborso spese, anche se nella maggior parte dei casi vengono retribuiti con altri sistemi. Le associazioni di volontariato poi per giustificare i soldi ricevuti dall'aslo devono effettuare ogni mese una rendicondazione su quelle che sono le proprie spese. Si è notato e quindi invito gli organi di competenza a fare un controllo per vedere che queste rendicondazioni sono sempre le stesse ogni mese e non rappresentano il vero. Questo avvalorando maggiormente la nostra tesi che queste non siano associazioni di volontariato, bensì siano delle vere e proprie imprese. La nostra proposta è quella di aumentare, si può fare anche una sperimentazione qui per le nostre postazioni, aumentare di passare da 25.000 a 35.000 euro per postazione. Però questo ci permetterebbe a noi come cooperativa di assumere i lavoratori. Quindi andremo ad aumentare l'occupazione, garantiremo un'assistenza migliore e si va a valorizzare quella che è l'assistenza vera e propria. Restiamo in tema sanità ma andiamo all'ospedale di Polla dove il reparto di neurologia rischia la chiusura se non si provvede immediatamente all'integrazione del personale medico. La denuncia arriva dal responsabile, il dottor Pietro Greco, che annuncia il suo prossimo pensionamento e presto potrebbero lasciare il reparto anche gli altri due medici in servizio. Senza personale medico il reparto non potrà più lavorare e rischia pertanto la chiusura. Vediamo. Pochi giorni ancora ed il reparto di neurologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla perderà un altro medico mettendo a rischio la funzionalità dello stesso reparto. Il prossimo 27 luglio infatti il responsabile del reparto, dottor Pietro Greco, lascerà il suo posto all'interno dell'unità operativa per raggiunti limiti di età in vista del pensionamento che arriverà il primo novembre. La legge gli impedisce di proseguire nel suo lavoro fino alla data stabilita in quanto deve per obbligo soffrire delle ferie arretrate e mai utilizzate viste anche le difficoltà che il reparto sta attraversando da tempo e che lo stesso dottor Greco ha sempre denunciato. Al momento sono tre i medici in servizio, oltre a Greco sono in servizio una dottoressa, anche lei potrebbe a breve decidere per il pensionamento, ed un giovane medico che però ha in servizio con avviso a tre mesi. Ma non è solo un problema di totale carenza di organico, il reparto di neurologia infatti sta anche chiedendo da tempo l'arrivo di nuove apparecchiature senza le quali non possono essere effettuati esami di particolare rilevanza. Una situazione che il responsabile del reparto ha nuovamente denunciato su Facebook attraverso anche la pagina Difendiamo le nostre strutture sanitarie, in cui è evidenziato come, senza i sanitari da tempo promessi ma mai arrivati, si rischia la chiusura di reparti, lasciando anche intendere come la situazione che sta vivendo al momento il reparto di neurologia possa riguardare anche altre unità operative. Un reparto specialistico, dichiara Greco, ha bisogno di un organico adeguato. Abbiamo fatto sempre sacrifici per portarlo avanti per anni, anche in due medici in servizio. Sono 27 anni che lavoro neurologia e 14 come direttore e questi anni di gravi carenze, battaglie ed esposizioni mediatiche, sempre per dare assistenza ai nostri cittadini, me li sento sulla pelle. Nel suo posto il dottor Pietro Greco aveva sottolineato fortemente la necessità del mantenimento del reparto di neurologia che non solo deve continuare ad essere operativo ma deve anche essere rafforzato. In conclusione lancia anche un messaggio di determinazione in cui sottolinea come i due ospedali di Polla e Sant'Arsenio non solo devono essere difesi ma devono anche essere potenziati nei fatti e non solo a parole. La politica, il comune di Sant'Arsenio non sarà chiamato al voto per il prossimo, nella prossima tornata elettorale. Il primo cittadino Donato Pica infatti ha ritirato le sue dimissioni che aveva presentato lo scorso 26 giugno, passo indietro quindi per Pica che resta alla guida del paese e della sua amministrazione. Hanno quindi dato buoni frutti le consultazioni annunciate dal primo cittadino in occasione della presentazione della sua lettera di dimissioni. Le prossime elezioni comunali del Vallo di Diano pertanto interesseranno soltanto tre comuni, ossia Sassano, Pertosa e Polla a seguito del decesso del sindaco Rocco Giuliano. Andiamo avanti, la cronaca assolta dopo sette mesi trascorsi in carcere a Vallo della Lucania con un'accusa gravissima, abusi sessuali aggravati sulla nipote. La storia di un 33enne di Agropoli che è stato riconosciuto innocente non abusò della nipote. Vediamo. I giudici del Tribunale di Vallo della Lucania hanno assolto il giovane agropolese dall'accusa di abusi sessuali aggravati su minore perché il fatto non sussiste. Questa è la sentenza del processo, corrito abbreviato in primo grado a carico del 33enne arrestato dai carabinieri della locale Compagnia il 31 dicembre del 2019. Difeso nel procedimento penale dai legali difensori Franco Maldonato e Antonio Mondelli era tornato in libertà nei giorni scorsi dopo sette mesi di detenzione presso la casa circondariale di Vallo dopo che il riesame aveva negato la richiesta di scarcerazione. Cadute le accuse nei confronti del 33enne dunque innocente rispetto alle gravi accuse mosse nei suoi riguardi, gli avvocati valuteranno ora di chiedere il risarcimento dei danni per ingiusta detenzione. Nell'ambito investigativo l'arresto dell'uomo fu inquadrato nell'ambito del noto giallo inerente la scomparsa dal cimitero comunale della salma del compianto Pasquale Piccariello, 19enne agropolese, deceduto 14 anni fa in un tragico incidente stradale alla linora di Capaccio Pestum. Continuiamo sulla cronaca tragedia a Sassano. Nel primo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 67 anni nella sua stalla. L'uomo Mario Pinto non sposato pare sia stato colpito da un infarto fulminante mentre era intento nel suo lavoro all'interno del ricovero da cudire gli animali. Richiesto l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. I funerali si svolgeranno domani presso la chiesa di San Rocco secondo le disposizioni vigenti in materia di normativa anticontagio con ingresso consentito ad un numero massimo di 50 persone. Andiamo avanti. Tentano la truffa della posta pay ai danni di una ricevitoria di rocca d'aspide ma fortunatamente vengono fermati dagli agenti della polizia municipale. Si tratta di 5 persone tutti della stessa famiglia. Un'anziana entra in una ricevitoria di rocca d'aspide e chiede di ricaricare una carta prepagata. Tutto normale se non si trattasse di un tentativo di truffa. L'ultima frontiera delle truffe arrivate da queste parti è quella della ricarica poste pay che fortunatamente è stata sventata. Una pattuglia della polizia municipale con il luogotenente Michele D'Angelo e l'agente Adriana Palma nel corso di un servizio di perlustramento e controllo del territorio è intervenuta in una ricevitoria del posto dove 5 persone tutte della stessa famiglia e provenienti dal comune di Baronissi avevano consumato il raggiro per un importo di 350 euro. Stavano per dileguarsi ma sono stati bloccati. Il modus operandi vede il malfattore presentarsi in un bar o in un tabacchi abilitato alle ricariche e chiedere appunto di ricaricare una carta prepagata con un importo che va dai 300 ai 400 euro. L'ignaro esercente effettua l'operazione e lui si dà alla fuga allontanandosi con una semplice scusa. Sicuro che la ricarica una volta effettuata non può essere annullata. Nel caso di Roccadaspide il tentativo di raggiro si è sviluppato grosso modo con la stessa modalità. Protagonista una vecchietta e in un secondo momento gli altri complici intervenuti sostenendo che la donna non disponesse del contante necessario. Allertati dal titolare della ricevitoria sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione locale che con l'ausilio della polizia municipale hanno portato i malintenzionati in caserma per i provvedimenti giudiziari del caso. Andiamo ora a Sanza sempre sulla cronaca. Questa mattina i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel centro storico sanzese dove un'abitazione ha preso fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni alla struttura per il quale il sindaco Vittorio Esposito ha emesso ordinanza di sgombero. Ancora un caso di incendio in un'abitazione fortunatamente però senza rischi per le persone. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi intorno alle ore 10 a Sanza e per fortuna pare che il proprietario non era al momento in casa. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto l'abitazione ubicata in via Ombrosa nel centro storico del paese per lo spegnimento dell'incendio e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sul posto immediato anche l'arrivo dei carabinieri della locale stazione e degli agenti della polizia municipale tra i primi ad intervenire che hanno provveduto a sgombrare l'area dato che l'abitazione che è stata interessata dall'incendio apparteneva ad un nucleo di case collegate tra di loro. Per questo motivo si è reso necessario allontanare anche tutte le persone residenti nelle abitazioni vicine. Momenti di preoccupazione invece si sono vissuti per il titolare della casa in fiamme, un uomo di 60 anni che viveva da solo. Inizialmente infatti non si riusciva ad avere notizia della persona e si temeva fosse rimasta intrappolata in casa. Per fortuna invece si è scoperto che il 60enne non era nella sua abitazione al momento dell'inizio dell'incendio di cui non si era reso conto. A preoccupare maggiormente i vigi del fuoco era una bombola di gas appena acquistata e posta nelle vicinanze dell'incendio all'interno del fabbricato. Per garantire maggiore sicurezza agli operatori del soccorso e per evitare ulteriori danni, il sindaco esposito ha dato disposizioni per l'interruzione dell'erogazione nella zona del gas metano ed interrompere temporaneamente anche la fornitura elettrica. Non sono chiare le cause scatenanti dell'incendio sul quale stanno verificando le forze dell'ordine. Si ipotizza possano essere partite dal piano superiore della casa raggiungendo poi con velocità il sottotetto. Anche la rete di illuminazione pubblica ha subito gravi danni a causa delle fiamme. Torniamo a parlare di sanità. Ieri a Salerno si è tenuta la prima riunione della conferenza consultiva del volontariato dell'ASL. Vediamo di cosa si tratta. Si è tenuta ieri nella sala conferenze di Vianizio a Salerno la prima seduta della conferenza consultiva del volontariato dell'ASL Salerno, istituita per favorire il ruolo partecipativo e consultivo delle organizzazioni di volontariato e degli organismi di tutela dei diritti nel rapporto con il sistema di erogazione dei servizi sanitari. L'evento giunge a conclusione dell'iter avviato dall'ASL nel dicembre del 2019 con la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle candidature da parte delle associazioni di volontariato interessate. Potevano chiedere di farne parte gli organismi di tutela e rappresentanza degli utenti, le associazioni di volontariato che operano a sostegno del malato all'interno dell'ASL e quelle iscritte nel registro regionale esterne all'ASL in rappresentanza di interessi diffusi. Si sono incontrati ieri per procedere all'insediamento e per discutere e approvare la carta dei servizi 2020, i rappresentanti della parte pubblica e quelli delle 18 associazioni che avevano avanzato la propria disponibilità a farne parte, tra queste progetto Famiglia Fido, Teggiano Ollus e Caritas Diocesana, Teggiano Policastro. La conferenza consultiva del volontariato è un organismo partecipativo con funzioni consultive di proposta alla direzione generale che mira a valorizzare il ruolo delle associazioni e di supportare le attività del volontariato svolte in collaborazione con le strutture dell'ASL. L'incontro si è concluso con piena soddisfazione dei convenuti e con la consapevolezza di poter sviluppare insieme un proficuo rapporto di collaborazione che prevederà un ricco programma di lavoro a partire dalla condivisione della carta dei servizi. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg a Padula, domani presso la farmacia Alliegro, appuntamento con la giornata della prevenzione del melanoma, un evento dedicato alla tutela della salute con la possibilità di effettuare un controllo per la mappatura dei nei. Importante momento dedicato alla salute domani alla farmacia Alliegro di Padula, con la giornata di prevenzione del melanoma. La stagione balneare è infatti iniziata e l'esposizione diretta ai raggi solari può essere rischiosa se non affrontata con responsabilità e attenzione. La farmacia Alliegro di Padula, innovativa e moderna, sempre al fianco degli utenti nell'affrontare le sfide quotidiane, domani dà la possibilità ai cittadini di sottoporsi con il dottor De Maio ad un controllo per la mappatura dei nei e la diagnosi precoce del melanoma. Il controllo sarà effettuato mediante videodermatoscopia in epiluminescenza digitale, la più attuale delle metodiche per quanto riguarda le diagnosi e lo studio dei nei e le lesioni pigmentate. Un'occasione importante per ricordare che la prevenzione riveste un ruolo fondamentale per la diagnosi precoce e quindi la definizione dei trattamenti adeguati per il melanoma. Nel corso della giornata di domani, inoltre, il dottore sarà a disposizione per consigli e consulti sulla pelle. Tutte le informazioni sono reperibili presso la farmacia Alliegro o al numero 328 89 34 173. Altro importante servizio offerto dalla farmacia Alliegro di Padula è lo specialista in farmacia. È infatti possibile prenotare la visita con l'endocrinologo, diabetologo, allergologo, pneumologo, dermatologo, consulente laser terapia, ortopedico, anche pediatrico, posturologo, dietologo, nutrizionista e per la terapia del dolore. Alla farmacia Alliegro inoltre si possono prenotare anche diversi esami e analisi, ecografie, ecodoppler, test allergie e intolleranze e altri eseguiti direttamente in farmacia come spirometria, oltre cardiaco, oltre pressorio ed elettrocardiogramma. Terre da coltivare a disposizione di aspiranti agricoltori a Sant'Arsenio, in lo comune da in concessione terreni incolti e abbandonati di proprietà dell'ente. 100 ettari di terra da coltivare sono disponibili a Sant'Arsenio. Il comune mette a disposizione di aspiranti agricoltori terreni incolti o abbandonati di proprietà dell'ente. L'iniziativa parte da una delibera di giunta dell'ottobre 2017 per rispondere ad una legge nazionale dell'agosto di quell'anno in materia di disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno, con cui si punta ad individuare soluzioni sia per offrire nuove opportunità occupazionali nelle regioni del sud, tra cui la Campania, sia per rimettere in circolo terreni pubblici trascurati. L'ente, retto da Donato Pica, ha provveduto a fare una ricognizione e quindi ha un elenco disponibile presso l'ufficio tecnico comunale. Quasi tutti i terreni a disposizione sono a destinazione agricola e alcuni sono gravati da livelli e usi civici, i cui titolari potranno esercitare la priorità del diritto di affrancazione specificano dal comune. I vantaggi di dare in concessione terreni pubblici in stato di semiabbandono sono almeno due, lavoro e conservazione del territorio. Significa infatti dare il via ad una nuova fase di sviluppo occupazionale, rappresentando un'occasione per tutti coloro che hanno idee e voglia di impegnarsi nel lavoro agricolo, ma hanno bisogno di un supporto per realizzarsi. Al contempo, i beni messi a disposizione potranno avere nuova vita, favorendo il recupero produttivo dei terreni e prevenendo i rischi, come possono essere gli incendi in questo periodo o più in generale il degrado del territorio. E ora la cultura dopo le operazioni di pulizia e sanificazione post emergenza riapre sabato prossimo la sezione museale di Policastro Bussentino del Museo Diocesano di Teggiano Policastro. Dopo i primi turisti in visita nei musei e nelle chiese di Teggiano, accolti dai collaboratori della diocesi di Teggiano Policastro in seguito alla chiusura per l'emergenza sanitaria da Covid-19, altro importante passo in avanti verso la normalità è la ripresa delle attività legate alla promozione delle bellezze del territorio. Riapre infatti sabato la sezione museale di Policastro Bussentino del Museo Diocesano di Teggiano Policastro. Una riapertura che, come ormai avviene di consueto, arriva dopo le operazioni di pulizia e di sanificazione previste dalle disposizioni post-emergenza. Anche qui ci saranno esperti collaboratori ad accogliere turisti e residenti alla scoperta delle meraviglie della collezione d'arte sacra esposta. Nel mese di luglio il museo sarà aperto i giorni 18, 19, 25 e 26, dalle 10 alle 12 e dalle 18 e 30 alle 20 e 30. Nel mese di agosto l'orario di apertura sarà pomeridiano dalle 17 e 30 alle 20 a 30. Per particolari esigenze di visita o per richieste di accompagnamento si può contattare la struttura museale all'indirizzo email museoteggiano-diocesiteggiano.it. Arricchito da nuove opere d'arte, in particolar modo da un crocifisso in avorio del Settecento rientrato in collezione dopo un attento restauro, la struttura museale si pone come uno dei musei d'arte sacra più interessanti del Golfo di Policastro e dell'area cilentana. Offre anche la possibilità di visitare la contigua cattedrale dell'Assunta che raccoglie numerose opere d'arte. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.